Ciao amici, benvenuti su Instruments Attack. Siamo di nuovo sulla mia cucina, oggi vedremo come fare un altro simpatico strumento musicale con una cannuccia. Anzi, oggi faremo un fastidiosissimo fischietto. Prima cosa da fare è schiacciare la parte in cima della cannuccia, tagliarla formando una punta. Il gioco è fatto, non resta che utilizzarla mettendola dentro la bocca e aumentando la pressione soffiando... E pazza! Visto? Non buttate mai niente, anzi, suonatelo!